Per i quaderni del Bardo Edizioni abbiamo pubblicato Abitare la ferita di Valentina Casadei nella collana I fuochi, diretta da Ottavio Rossani. Si tratta di una raccolta di versi che arriva come un pugno nello stomaco perché Valentina Casadei non fa sconti a niente a nessuno, né all'amore, né alla vita, né all'amicizia, né all'esistenza in generale. Certo non è un tipo di approccio fondamentalmente nichilistico o di nichilismo passivo, cioè di distruggere per distruggere, anzi forse è una forma di nichilismo attivo quella di distruggere per costruire, ma lo fa attraverso una visione netta, precisa, cioè che è quella di potersi realzare sulle macerie delle ferite ogni volta, attraverso un procedimento particolare che è quello dell'alchimia spirituale incarnata da una figura mitica, mitologica come quella dell'araba fenice che dalle proprie ceneri risorge a nuova vita. Ogni sussurro all'interno di questa raccolta di versi è un lamento, ma un lamento tragico, tragico proprio della tragedia classica e che diventa canto universale che appartiene a tutti noi.